Pensiamo ai giovani, io dico un patente a voi, pensiamo ai giovani avvocati, che gli avvocati anziani sanno così che questo è il posto. Io sto dicendo, come voi, se stanno a te e ti lascio ballare, fammi ballare! No, io dico, tanto tu devi morire come me, devi morire come me, va bene, va bene, ti lascio un pittetto, ti mantengo un posto quando vado di là, va bene, va bene, allora sei articolato.